Ciao Juventino, vengo a portarti le notizie dal calciomercato della Juventus prima di continuare, e lasciate quel super mi piace e iscrivetevi. Avendo una delle migliori basi, con grandi giovani e promettenti giocatori di calcio, la Juventus pianifica di ampliarla ulteriormente. La Juventus ha iniziato le osservazioni su un giovane attaccante brasiliano, Mateus Franca. Mateus Franca è un giocatore del Flamengo e è considerato da molti una delle grandi promesse del calcio brasiliano. Mateus Franca a 19 anni ha suscitato l'interesse della Juventus, che si aspetta di fare una proposta per lui a giugno. Ieri, la Juventus ha fatto il primo avvicinamento al giocatore. Gli osservatori della Juventus sono stati in Brasile per assistere alla partita del Flamengo e osservare Mateus Franca. Il Flamengo ha respinto offerte recenti di 20 milioni di euro. In altre parole, per acquisire il brasiliano, la Juventus dovrà fare un'offerta superiore a 20 milioni di euro. Ditemi voi, vale la pena pagare più di 20 milioni per un giovane promettente come Mateus Franca? Commentate qui sotto.